Siamo all'interno dell'Istituto Ducca d'Aosta di Padova da tre giorni in cogestione per parlare e discutere di alcuni temi importanti, in particolare la soppressione del liceo sociopedagogico. La riforma Gelmini, infatti a partire dall'anno scolastico 2010-2011, darà vita ad un unico liceo che va ad unificare il liceo sociopedagogico e quello delle scienze sociali nel liceo delle scienze umane. Ogni istituto, poi sempre secondo la riforma, potrà attivare l'opzione sezione economico-sociale in cui saranno approfondite in essi le interazioni tra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche. Questo però significherà anche un taglio delle ore scolastiche del personale docente e non docente. Le materie specifiche vengono tutte riunite nelle scienze umane e la cosa non è molto bella per coloro che hanno fatto liceo sociopedagogico perché questo liceo ha una formazione molto più specifica e noi crediamo vivamente che per entrare nel mondo lavorativo in questo settore ci sia bisogno di una sorta di specificità. La novità per il nostro istituto e per tutti i licei è che c'è una riduzione oraria di 27 ore, quindi il socio psicopedagogico che contemplava prima 34 ore verrà ridotto a 27, mentre le scienze sociali da 30 a 27. Questo immagino significa che è un taglio per gli insegnanti? Questo evidentemente è un taglio degli insegnanti, del personale ATA e una riduzione della offerta formativa scolastica agli studenti. Tematiche queste presi in esame sia degli studenti che dai professori che hanno voluto partecipare ai tre giorni di cogestione della scuola in cui si sono succeduti gruppi di lavoro sulle droghe, sulla politica e le differenze tra i due schieramenti, sulle carceri, sul volontariato e la pedagogia interculturale ma anche sulle modalità democratiche di rappresentazione scolastica. Quell'idea di eliminare la rappresentanza di istituto per far sì che la scuola abbia un consiglio di istituto formato da persone esterne, cioè una sorta di fondazione. La scuola non sarebbe più pubblica in questo modo.